Siamo sempre all'interno delle cucine dell'Hotel Universo, siamo in compagnia dello chef Graziano Mazzone insieme a Fabio, Armando e Francesco. Allora carissimo chef, quest'oggi si parla di un piatto veramente delicato, baccalà mantecato alla veneziana. A lei chef. Prendiamo un chilo di baccalà bagnato. Bagnato si intende che deve essere a bagno da minimo 24 ore e cambiata l'acqua, ogni 3-4 ore ci deve essere sempre il cambiamento dell'acqua. A questo passiamo, lo scogliamo bene e lo immergiamo qua. L'acqua è salata e lo siamo per circa un'ora, un'ora e venti. Bene, è passato l'ora e un quarto, l'ora e venti. Lo sto prendendo bene, lo scolo dall'acqua bollente. Ci teniamo in una ciotolina un po' di questa acqua. Adesso Francesco mi passa, va bene, che dopo vi spiego cosa serve quest'acqua. A questo punto si inizia a mantecarlo. Ecco l'olio va messo a filo, ricordatevi, a filo piano 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 piano, che in modo la velocità me lo mantecchi bene 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 bene. L'acqua serve ad aggiungere al baccalà e con poche gocce diventa bianchissimo. Spengo, stacco queste. Allora, prima di preparare il piatto, si dovrebbe incorporare un spicchio d'aglio intero, che in modo si possa togliere, e un po' di prezzemolo per dargli un po' di colore. Ecco che tutto incorporato. Iniziamo a preparare il piatto. Noi vorremmo mettere due gocce di aceto balsamico e lo avremmo preparato con il cioccolato. A questo punto noi sporchiamo il piatto che se per caso i clienti che lo devono degustare lo possono. Vi ringrazio di tutto il tempo che ci state dedicando in tutte le trasmissioni e ci vediamo alla prossima. E buon appetito! Un piatto leggerissimo da mangiarne all'infinito, quindi abbinare un vino leggerissimo e a berne all'infinito. Uno chardonnay leggermente frizzante della marca trevisana, di Nardin Walter, 11 gradi e mezzo, leggermente frizzante, quando si dice chardonnay frizzante è un po' un... non si dovrebbe dire. Però ha questo perlage sottilissimo che è meraviglioso, sgrassa bene la bocca e si fa bere molto bene. Io ringrazio Gianfranco Polesello, vi aspettiamo sempre qui all'Hotel Universo. Un buon appetito, una buona degustazione. Grazie. Grazie, salute.